salve ragazzi cari amici del web sono andrea bruno mi trovo in malesia e questa inquadratura che vi sto mostrando ora è l'ultimo grido della moda malesiana moda che segue l'ispirazione muslim ispirazione muslim pura se volete rimanere al passo con i tempi eccoci qua un bellissimo vestiario che tiene a botta la calura malesiana oppure potete anche andare in giro vestiti in questo modo 2014 questa sarà la nuova moda un saluto a tutti ci sentiamo